Buongiorno, professore. Buongiorno, professore. Come ti chiami? What is your name? Quanti anni hai? How old are you? Qual è il tuo hobby? Qual è il tuo hobby? Che materia insegni? Qual è la prossima lezione? Quando è la prossima lezione? Posso andare in bagno? Can I go to the bathroom? Ho dimenticato i miei compiti. I forgot my homework. Qual è il compito per domani? What is the homework for tomorrow? Posso avere una matita? Can I have a pencil? Quando è l'intervallo? When is recess? Posso fare una domanda? Can I ask a question? Qual è la risposta giusta? What is the correct answer? Puoi spiegare di nuovo? Can you explain again? Ho bisogno di aiuto con questo. I need help with this. Quando è l'esame? When is the exam? Posso vedere il mio voto? Can I see my grade? Se ti piace questo contenuto, non esitare a iscriverti, mettere mi piace e condividere per ricevere ulteriori contenuti simili. Dove si trova la biblioteca? Qual è il tuo libro preferito? Qual è il tuo libro preferito? Posso sedermi qui? Quando finisce la scuola oggi? Quando finisce la scuola oggi? Qual è il tuo sport preferito? Qual è il tuo sport preferito? Posso usare il computer? Posso usare il computer? Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Dove abiti? Dove abiti? Che ore sono? Posso avere un passaggio a casa? Posso parlare con il preside? Posso parlare con il preside? Qual è il programma di oggi? Qual è il programma di oggi? Ho bisogno di un libro di testo. Cosa c'è per pranzo? Cosa c'è per pranzo? Posso vedere il mio consulente? Posso vedere il mio consulente? Quando è la prossima vacanza? Quando è la prossima vacanza? Posso avere una gomma? Posso avere un erasor? Ho dimenticato il mio libro a casa. I forgot my book at home. Posso parlare con il mio amico? Can I talk to my friend? Dove sono i miei appunti? Posso usare la lavagna? Can I use the blackboard? Quando è la gita scolastica? Quando è la gita scolastica? Se ti piace questo contenuto, non esitare a iscriverti. Mettere mi piace e condividere per ricevere ulteriori contenuti simili. Posso avere un bicchiere d'acqua? Can I have a glass of water? Quando è il prossimo test? When is the next test? Posso avere un foglio di carta? Can I have a sheet of paper? Qual è il tema del progetto? What is the topic of the project? Posso avere un appuntamento con te? Can I have an appointment with you? Dove posso trovare il libro? Where can I find the book? Qual è il compito per oggi? What is the assignment for today? Posso avere una copia di questo? Can I have a copy of this? Qual è il tuo animale preferito? Qual è il tuo animale preferito? Animal.